carissimi amici purtroppo a cussagno è da un anno che non ci vediamo diciamo di persona di presenza attorno a padro ottavio ma di tanto in tanto facciamo queste riunioni online social come si dice oggi però sono belle l'ultima volta abbiamo ricevuto un sacco di messaggi padro ottavio sei disposto a farne altre io disposto lo sono non so quale capacità di trasmettermi qualcosa ma il cuore caldo quindi sono disponibile poi è bello perché le persone scrivono scrivono quello che loro pensano i saluti a te no no poi l'immediatezza no di sguarda siamo lontani mille miglia arriva da napoli arriva da bologna dove che arriva dal veneto monica monica valida bellissimo ma poi ma poi arriva da capoverde ma lì visti i tuoi confratelli da capoverse ne facciamo dobbiamo continuare dai con coraggio bellissimo allora mi raccomando state bene attenti state attenti ai messaggi che vi mandiamo perché stiamo preparando grandi cose sui social ottavio sei pronto stiamo avanti con fiducia mi raccomando è amse se ci siete anche voi ciao grazie a tutti